e questo è l'ingresso di Hildeburg in quanto dopo le parole tra i tre pleciotti e oggi avremo un match pazzesco il W2 scozzese contro Sean Filly in un Chelsea match che probabilmente chiuderà la loro fila e questo è il nostro corso di Hildeburg in quanto dopo le parole tra i trevi e questo è il match che non può perdere o sali o scendi giù nelle retrovie senza l'interneccio Sean Filly e Hildeburg in una rivolità che ormai durerà due mesi prima ne ha interessato anche Mr. P ma abbiamo visto Gregor X come ha finito con la vittoria di Mr. P schienando proprio Hildeburg e Hildeburg ha detto io non sono stato schienato ma posso dimostrare di essere comunque forse più forte di Sean Filly e oggi però lo devi dimostrare perché Sean Filly comunque l'ha battuto con Hildeburg e però anche Hildeburg l'ha sconfitto ma in un match normale Sean Filly ha dimostrato di essere più forte di Hildeburg in un match magari con l'uso di strumenti illegali beh forse Hildeburg ha qualcosa in più ma Filly qua però se la sta cavando piuttosto egregiamente d'altronde l'esperienza insegna come si suol dire uuuuh però qui si è pure che la prendi una sola manico una scalata in pieno molto a parte di Hildeburg ancora su Sean Filly che sta subendo troppi golpi troppi golpi un'altra parte di Hildeburg un'altra parte di Sean Filly che va a prendere la valigetta che indica la vittoria nel tuo momento della mittara di questo match e il meglio può sverare lì è salito è salito è salito sopra incredibile incredibile Hildeburg cosa fa Hildeburg nient'ora ma riesce a più lo prende power bomb sono astante mamma mia ragazzi grande match grandissimo match parte il 6 qui siamo in vetta ancora siamo in vetta Hildeburg prende il superplexo forse sul tavolo incredibile fuori del ringo che botta ragazzi è qua finita è qua finita oh my god questo può essere l'inizio del match è finita e Sean Filly qua penso abbia immediato una bruttissima caduta si rialza ora ma Hildeburg sembra avere la valigetta sembra avere la valigetta il match era già finito e Hildeburg strappava la valigetta incredibile Sean Filly non la trova più ma che brutta botta rimediare la Sean Filly qua che brutta botta ma grandissima la vittoria da parte di Hildeburg e quindi Hildeburg si porta a casa sia la ricetta sia un match memorabile sia un grande futuro per il mio indagore obbiettivo adesso passiamo alla pubblicità e poi torneremo con Dio Burchieri contro Mr. P grazie 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 actually using a line like that another twelve dollar bottle of wine please Dad says to go ahead and give him a blowjob Or I can do it Or if need be he'll come down himself and do it But for God's sake tell him to take his hand off the intercom Having a girlfriend whose father has a sense of humor Priceless There are some things money can't buy For everything else there's MasterCard La cena ti è rimasta sullo stomaco? Dopo i pasti, effervescente Brioschi Brioschi, digerire semplicemente Il salvatore di Buccheri che in Wenders World Series Andrà in un Iron Man match contro Nicholson Titolo internazionale in pallio Sarà un grandissimo match ovviamente Ora però gustiamoci un match tra Buccheri e Mr. P Il salvatore di 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 Buccheri e Mr. P Accopagnato ovviamente da Nicholson L'ospedale del campion internazionale Che oggi però è lasciata a casa legge la cintura Tanto che non vuole ovviamente rischiare di perderla Anche se è soltanto un manager quest'oggi Siamo soltanto a 10 giorni da Superbupo Series E sarà ovviamente un grandissimo evento Da non perdere sempre qui sul nostro canale Si può dunque iniziare Ovviamente Ligosa non potrà dare molti fastidi Tato che ha l'angolo In confronto di Diuburkieri Perché Mr.P vorrà mantenere la sua imbattibilità Dalla parte secondo me Ha tutto da vincere Tutto da perdere Diuburkieri Ha da perdere E' vero Mr.P potrebbe perdere l'imbattibilità Alla fine che conta Lui è all'esplorio di Sirius adesso Adesso vincerebbe Se dovessi vincere Beh, imbatte l'ex campione intercontinentale Ma insomma Non è quello che conta Mr.P vuole il giro al coro Quindi un ex bregara Buona manovra Però io penso che dovrà Mostrarci ancora molto Se vuole davvero essere uno dei migliori In questa compagnia Dove i migliori si vedono col tempo E non con le vittorie avvicinate E' vero ci sono stati molti D'esplorio di Sirius che Hanno sempre dimostrato Di sapere vincere Però poi Gli mancano proprio Nel fattore inizio Quel fattore che Mr.P sembra avere Ma lo deve dimostrare Lo deve esternare E questa è la sfida E questa è la sfida Secondo me più importante Che da adesso per Mr.P E' vero Ha vinto a BreakRights Ma non è inizio a speranza E' già finita E' già finita Due Eh no Non basta Mi sapeva difficile A tenere giù Ma questa manovra Può essere la manovra risolutiva Per due burchieri D'altronde E' una manovra veloce Che lui sa A eseguire perfettamente Lui e Darkara sono i migliori Per questa manovra Ci sono stati altri Che l'hanno provata Ma con minori E più scarse risultati Burchieri Tenta la manovra Riesce Della flotta Legnata Qua dentro la spallata Ancora Mr.P Vecchio Riesce Quella di Dio burchieri Attenzione Riesce Sulla persona Attenzione Un po' di splash Va vuoto E' la piuole qui L'isupponenza La parte di Dio burchieri Voleva Ha cercato troppo Come Ha cercato troppo Veramente troppo Mr.P Potrebbe approfittarmi Uh Fince lo scambio Attenzione Attenzione qua Fince lo scambio Mr.P Sgambetto Su Dio burchieri Brutta robotta Se lo colpisce le gambe E' finita Per Dio burchieri Riesce Ando blocchio Poi ancora Di Mr.P Insomma Domina La potenza fisica Ma anche La maggior parte Riesce le azioni Dai Seguite lui Andiamo qui a riuscire Vediamo se Dio burchieri Approfitta adesso E si perde Con lo sguardo Nio burchieri Quindi devi stare attento Dio burchieri Dio burchieri E' furbo E' esperto Lo sappiamo Dio burchieri E' proprio da due anni Che è in WBF Ma forse non bastano Dio burchieri Cosa fa? Un drop kick Da paletto Questa è un'ottima manovra Ragazzi Un'ottima manovra That's a great move Come direbbero i nostri colleghi americani Grande manovra Ma attenzione Ancora Spilling kick Da parte Di Dio burchieri Il salvatore contro il futuro Guarda attenzione Che Mr. P Ha le spalle E' Dio burchieri Si è un attimo distratto Basta una distrazione Per Mostrare la potenza Di Mr. P Questo Mr. P Da vero una furia E' una bestia Nel vero senso della parola Sì Un Mr. P Che Insieme a Edward A Bernie A Leonard E a Mac Moulton E' Nelle nation chamber Manca uno soltanto Ovvero Uno tra Stipendro e The Slayton Che sarà il prossimo match Probabilmente Anzi no Tra due match Avremo quel match Quindi sarà un match davvero molto attesto Tra The Slayton e Stipendro Un Stipendro che la scorsa settimana Ha sconfitto proprio Da Joters The Slayton e male il drago Per diventare Uno e due a più di coppia Sei pronto Perché qui si alza velocemente Oh che giaccio Mi sta più in questo dito Dio perché ne lo alza Arriviamo a nostra attenzione Che switch Niente da fare Mr.P è una potenza della natura Mr.P è una potenza Ah resciutto Lo fa pure Mi mette all'anno Attenzione Sbaglia tutto Cosa fa qua? Mr.P se lo carica E fa il boop E no Samoan troppo La caduta a Samoana Questa fa Malissimo Fa malissimo Attenzione Ancora 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 Noi ragazzi Il step isbata Stato in braccio Deso Il step isbata È stato in braccio Il step isbata Il step isbata L'ho Il step isbata infatti hai dei dolori alla schiena, nitti nitti è già